Buonasera, buonasera a tutti. Diamo lettura del bollettino di oggi. Il numero dei guariti oggi è 894, quindi il totale complessivo dei guariti è di 8.326 e di 3.612 l'incremento delle persone attualmente positive. Il totale degli attualmente positivi è 54.030. Di questi 28.697 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 3.393 in terapia intensiva. Sono pari al 6% del totale. Purtroppo anche oggi abbiamo registrato un incremento dei deceduti di 743 persone. Io vorrei chiudere la conferenza stampa per quello che mi riguarda di questo mio intervento rivolgendo un augurio particolare a Guido Bertolaso che oggi abbiamo appreso tutti essere stato colpito dal coronavirus. Lascio la parola al Presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Franco, prego a te la parola. Grazie infinite, Angelo. Buonasera. Anche da parte mia, anch'io, mi unisco prima di iniziare a trasferirvi qualche messaggio che ritengo assolutamente importante agli auguri per il dottor Bertolaso perché presto negativizzi la sua infezione da SARS-CoV-2. Vorrei toccare sinteticamente tre punti. Il primo riguarda la durata delle misure di contenimento perché su qualche organo di informazione è apparsa una notizia che in qualche misura fa interpretare la possibilità che le medesime siano prolungate già di default fino alla fine di luglio. Assolutamente no. Voglio dire a chiarissime lettere che la durata delle attuali misure di contenimento mirate soprattutto alle attività lavorative non essenziali e alle misure di contenimento sociale è il 3 di aprile e nei giorni immediatamente precedenti verranno prese le decisioni del caso rispetto al prolungamento meno in funzione della evoluzione epidemiologica. La seconda riflessione che vorrei condividere con voi è quanto si sta facendo per cercare di dare risposte sempre più efficaci in termini di trattamento dei malati e a questo proposito vorrei menzionare in particolare tre aspetti. Il primo riguarda il protocollo di intesa che è stato firmato oggi tra Regione Lazio, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, CNR Spallanzani per perseguire una progettualità che è stata mirata allo sviluppo, alla validazione per poi evidentemente andare a una traslazione clinica di un vaccino in grado di conferire protezione contro SARS-CoV-2. Questo mi sembra un passo assolutamente importante che ancora una volta testimonia quello che è lo sforzo di tutte le realtà istituzionali del Paese per cercare di trovare le risposte più adeguate per il trattamento degli ammalati. La seconda riflessione sempre in questo ambito di quanto si fa per cercare di offrire le migliori risposte terapeutiche riguarda il fatto che la CTS di AIFA sta continuando in maniera assolutamente solerte con uno sforzo assolutamente encomiabile a valutare tutte le proposte che arrivano e quanto è stato identificato come percorso di sottomissione dei protocolli clinici, valutazione della CTS da parte di AIFA e poi trasferimento a un comitato unico nazionale ha esattamente lo scopo di accelerare quella che è l'approvazione di protocolli terapeutici per il trattamento di questi malati. Si sono raggiunte delle tempistiche assolutamente inimmaginabili in termini di riduzione se non si fosse identificato un percorso ad hoc. Quindi avere un comitato unico nazionale è un elemento di forza e non, come qualcuno ha detto, un possibile collo di bottiglie. Esattamente il contrario. Semmai la riflessione pertiene a quelli che sono gli usi su base cosiddetta compassionevole dove evidentemente per il numero che viene a essere identificato il riferimento saranno certamente i comitati etici locali. E la terza riflessione sempre in ambito di quanto si sta facendo riguarda i laboratori che sono in grado di fare diagnostica di infezione da SARS-CoV-2. Al 20 di marzo sono stati aumentati nel nostro paese a un numero addirittura di 77 e c'è una valutazione in queste ore di approcci diagnostici sempre basati sull'identificazione dell'RNA virale che è, e lo ripeto, il golden standard per fare una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 che possono permettere di ridurre i tempi tecnici attualmente legati all'impiego dei test tradizionali. Quindi anche questo vi dice quanto il sistema paese sta facendo il massimo nel caso specifico per rispondere alla domanda di poter fare una diagnostica molecolare basata sull'identificazione dell'RNA virale in tempi assolutamente strattissimi. L'ultimo pensiero della giornata, me lo permettete, viene a essere rivolto a tutti gli operatori sanitari in particolare ai colleghi infermieri, medici, chiunque opera negli ospedali a contatto con questi malati. sono un esempio straordinario di generosità di questo paese. Qualcuno di questi colleghi addirittura ha perso la vita per riuscire a salvare quanti più malati possibili. a loro certo di interpretare il pensiero di tutti gli italiani va il mio ricordo più caro, il mio più sentito ringraziamento davvero a nome di tutto il paese per quanto è stato fatto. il compito nostro, di chi sta provando a dare la miglior risposta, di tutelarli nel miglior modo possibile. e l'ho già detto due giorni fa, lo ripeto adesso, questo è il centro delle nostre priorità ma davvero un grazie infinito a nome del popolo italiano a tutti coloro che si stanno prendendo cura dei malati di Covid-19. Buonasera, sono Sabene del Tg2. Una domanda per lei dottor Borrelli. Stando alle sue dichiarazioni, almeno quelle che riportate nell'intervista di questa mattina su Repubblica, la situazione rispetto alle positività e contagi non sarebbe di fatto quella di cui parliamo ogni giorno qui alle 18, ma stiamo parlando di numeri in una maniera, come dire, neanche esponenziale, forse di più, per quanto riguarda lei ha parlato addirittura di più di 600 mila persone. Allora, la domanda che io le faccio in maniera veramente molto semplice e diretta, ma noi che veniamo a fare alle 18 qui a parlare di questi dati se in realtà, e alla domanda lei ha anche risposto dicendo forse se lo chiede anche lei perché siamo qui alle 18 a parlare di questi dati, se poi non sono i dati reali? No, assolutamente. La mia risposta era nell'ambito di un discorso più ampio e si parlava di possibili casi positivi asintomatici. Quindi io ho chiarito che ci sono diverse idee. C'è addirittura qualcuno che ipotizza di più, di meno. Quindi io ho fatto solo un ragionamento. Ho detto potrebbe anche essere, quindi non ho detto io che è esattamente quello il valore. È un discorso empirico che viene dal fatto che anche tra i miei collaboratori che hanno lavorato qui con me sono stati individuati tre casi positivi assolutamente asintomatici. Quindi era un discorso ed è un discorso fatto di carattere generale. Chiudiamo qui perché fra poco alle 18.20 ci sarà una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri. Grazie.